Ora lui la va a salvare Finalmente si è ripreso Eh si minchia Ok penso che qui siamo verso la fine C'è una volta che lui salva lei poi finisce Certo lui non è informissimo mischino Dove diavolo sei? Ok Certo quindi ora dovrei rifare tutta quella strada Sfatti a piedi senza cavallo Campa cavallo Certo grande Un'è lì Un'è lì Eccolo lì Io qua ho visto qualcuno comunque Ma non ci credo che è ancora vivo Non lasciare che ti prenda Dai Io penso qui Vai e guarda la porta Dove sei cazzo di merda? Di avanti Sono tutti troppo vicini Sì sì certo ve lo so Sì sì certo ve lo so Alleronella Quello che scappano ogni volta Cioè man mano che li ammazzi scappano Beh, è una cosa intelligente Almeno Ok, questi vediamo se li riesco a prendere silenziosamente Ah, si scavalca da là Ah, hai fatto da GameStop tipo Vabbè hai fatto bene Sai la possibilità di farlo E non mordete l'altra me lo direi Certo, vabbè Certo vabbè Presto stronzo Finiscilo Tieno fermo Da merda Filgio Tieno la tortura Certo Certo Cosa Ma... Ma... Ma che... Tu aspetta qui Ora La ragazza Dimmi, è viva Che ragazza Che ragazza Non so di nessuna ragazza Cazzo Ehi, guardami Guardami Te lo stacco questo ragazzo di ginocchio La ragazza È viva È il nuovo giocattolo di David Dove? In città In città In città Ora me lo indichi sulla mappa E sarà meglio che sia lo stesso posto che dice il tuo amico Segnalo È lì, cazzo Puoi controllare Chiedilo a lui Chiediglielo Te lo dirà Non sto mettendo Non sto... Vaffanculo, cazzo Ti ha detto quello che volevi Non so niente di più Ok, va bene Mi credo No, aspetta questa Sveglia, sveglia Forza Lasciami Dai Basta Smettila Ti avevo avvertita Sono infetta Sono infetta Davvero? E ora anche tu Guarda lì Tirami sulla manica Guarda lì Starò al tuo gioco Com'è che hai detto? Tutto accade per un motivo, vero? Che cazzo è quello? Ormai si sarebbe trasformata, non è vero? A me sembra più che vero, cazzo No 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 Ok No 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 Ok Ho bisogno di un'arma Ok, ce la posso fare Oh, cazzo Oh, cazzo Ma no, quanti cazzo sono? Ok Ripuliamo questo casino, poi faremo un'assemblea cittadina e metteremo ai voti la sua leadership Ah, ma perché mi hanno sentito? Secondo quale principio Che cazzo vuole impazzire? Oh, no, no, picco a 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 ok non sta andando male beh sì ovvio la storia ormai è chiara lei lei giustamente ha giocato da stuzia dicendo sono infetta sono infetta facendogli credere a quello che era infetto e fargli abbassare la guardia è una palese perché lei lo sa di essere immune cioè non è che non lo sa e c'è un tizio non 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 Sì No, me di pacca, per ora non lo lasciamo perdere Ancora ho un bel po' di vita No, vabbè, ma qui già mi seguono dall'inizio Siamo pochi ma buoni Allora, qui non mi piace Perché il fuoco aumenta la visibilità Andiamo di qua Ok Merda Non pensavo arrivasse da lì Va bene, allora Uno scende dalla scala, uno arriva a sinistra Allora mi conviene aspettare Questo qua a sinistra Pensavo scendessero tutti da lì Eccolo 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 Vediamo se spuntano di qui. Intanto ho la bottiglia, posso distrarla in qualche modo. Allora, vediamo se qui... no, bottiglia... eh, ma il fuoco mi fa vedere. Ok, da qui va bene. Allora, qui ce n'è una... ho vista... Che bella sta modalità ninja. Questa è la mia, tu cazzo. Tu cazzo sono. Siamo già nel casino e dobbiamo risolverlo. Restate concentrati, troviamo. Ok. Ok. Ma non esce questo da qui? Ok. 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 Upprimi! Puttana! avrei potuto usare meno munizioni usiamo meglio il mattone dove vado dove vado bella domanda dove sono? è tutto scoperto va così freddo oh merda come esco di qui? ah minchia questo fa rumore il vetro grazie 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 no da qua non sono uscita no da qua come hai fatto? non importa non puoi scappare vuoi uscire? vieni a prendere le chiavi so che non sei infetta nessuna persona infetta si danna così per rimanere in vita sei stata in gamba piccola ma tutto bene sai continui a sorprendermi ecco ti è lì come si non ti è lì noi non ti è lì ecco uno Ciao, scappa con i vieti, scappa Ecco tu Andiamo anche a sbrigarmi perché sta prendendo tutto a fuoco Andiamo a sbrigarmi perché sta prendendo tutto a fuoco Noi. Grazie a tutti. 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 Che bello l'acqua e frecce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, Cristo. Devo trovarlo. Devo trovarlo. Alla... 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 Alla...